Chilometri di code e un salto all'indietro nel tempo di quasi 50 anni. La chiusura fino al 4 aprile per lavori dell'autostrada 12 tra Carrodano e Davia Marina dalle 21 alle 5 del mattino sta creando non pochi grattacapi a camionisti ed automobilisti ma anche notevoli disagi a chi abita lungo la statale Aurelia in prossimità del passo del Braco. Come documentano le immagini postate sui social da Roberta Moretti già sindaca di Carrodano si ha un'idea della situazione di ieri sera alle 22 a Mattarana un'ora dopo la chiusura del tratto autostradale. Code interminabili e oltre due ore per percorrere i tortuosi tornanti del Braco inadatti ad ospitare il transito degli auto articolati che trasportano container da 40 piedi. Un tipo di trasporto certamente inadatto a quelle curve che mai dai primi anni 70 avevano visto incrociare mezzi di una simile stazza senza considerare i possibili incidenti o gli inconvenienti che se anche banali provocano colonne e ulteriori rallentamenti come il tir che l'altra notte è finito in una canaletta altri mezzi che si sono agganciati sui tornanti e altri che hanno sfondato diversi tratti dei guardrail e muretti a bordo strada. Un serpentone infinito con l'immancabile corollario di trombe e clacson degli autisti in coda e questo fin verso le 4 del mattino senza considerare cosa tutto questo comporta in termini di sicurezza. Della gravità della situazione si farà carico la regione che il 4 aprile ha convocato una riunione alla quale parteciperanno l'assessore alle infrastrutture Gian Pedrone con il presidente Toti e i concessionari autostradali per programmare una razionalizzazione dei cantieri in vista della stagione turistica che bussa le porte. La promessa è che tutti i lavori che interessano le autostrade Liguri siano terminati entro il 30 aprile. Si tratta di interventi riguardanti gli adeguamenti di sicurezza delle gallerie richieste dalla normativa europea e rimandati nel corso degli anni. Intanto i consiglieri regionali De Paoli della Lega e il parlamentare di Leo Luca Pastorino hanno chiesto una riduzione delle tariffe autostradali in Liguria mentre il sindaco di Carrodano Pietro Mortola ha chiesto a Salt di ridurre le chiusure notturne per ragioni di sicurezza visto che nessun mezzo di soccorso riuscirebbe ad intervenire in caso di necessità né per gli autisti né per i residenti dei paesi e le frazioni che gravitano sull'Aurelia in prossimità del Passo del Braco.